Le prime auto provenienti dal ponte della Maddalena affrontano la rotatoria e forse con un pizzico di incredulità svoltano a sinistra imboccando via Moggia direzione Cogorno. Da questa mattina, una volta completate le operazioni di pose del New Jersey e la tracciatura della segnaletica orizzontale, è entrata in vigore la nuova viabilità di piazza Podestà a Lavagna nel quartiere di Nostra Signora del Ponte. Un provvedimento atteso da tempo per chi utilizza questa direttrice di traffico, in particolare da chi, proveniente da Chiavari, era diretto verso il casella autostradale della A12, costretto ad allungare il suo percorso verso l'ospedale di Lavagna. Resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti sul ponte millenario, con i tir che però riescono ad affrontare senza problemi la nuova configurazione viaria. Da oggi per le auto sarà possibile svoltare direttamente verso via Moggia, così come chi, proveniente da Lavagna, potrà imbocare il ponte della Maddalena diretto a Chiavari. La sperimentazione della nuova configurazione durerà adesso alcuni mesi, finita l'estate si deciderà. Nel frattempo verranno portati a termine i lavori di sistemazione della piazza, con la piantumazione di alcuni olivi e il rifacimento dei marciapiedi. Almeno si leva tutta questa confusione che c'era prima, poi le rotonde sono fatte apposta per smaltire il traffico, speriamo che funzioni, speriamo bene. La piazza rimarrà a Pedonale, l'altra si perderà qualche posteggio forse, comunque qua è una zona che posteggi sicuramente non mancano, meglio di prima sicuramente. Bisognerà vedere come assorbirà il traffico San Salvatore, con i semafori e l'uscita dell'autostrada, che anche lì c'è un imbottigliamento continuo. Anche lì è prevista una rotatoria, non avrebbe... Ma non si sa quando si farà, quindi è tutto in divenire da vedere come andrà a finire. Ultimamente andava a girare dalle camere, dall'ospedale e poi tornava indietro, però così... Oppure quelli che dovevano svoltare a sinistra andavano più avanti qua a 100 metri, facevano inversione lì in una piazzola e tornavano verso Chiavari. Però insomma è un lavoro che serviva. Non so come mai ci abbiano messo tanto tempo ad attuarlo, non so se c'erano dei problemi, però insomma sono contento anch'io che sia stato fatto. Grazie a tutti.